Porte aperte il 21 e 22 maggio da Matteoli Edilizia a Monte Urano per il Meeting 2016. Sarà presentata la nostra gamma completa di prodotti, tra cui sollevatori telescopici, carrelli elevatori, macchine da giardino, stufe, forni, barbecue, tecnologie per la pulizia industriale e moltissime altre novità. Matteoli Edilizia vi aspetta il 21 e 22 maggio in via Garda 23 a Monte Urano.